ciao a tutti ho una bella storia per voi questa storia è una parabola cioè è una storia raccontata da gesù per insegnare c'era una volta un uomo che lavorava in un campo che non era suo lo coltivava per conto di altri a un certo punto lavorando scopre un tesoro quel tesoro è proprio grande non ha mai visto niente di più prezioso e allora va pieno di gioia vende tutto quello che ha e compra quel campo così è di chi ha scoperto nella sua vita il regno di dio dalla predicazione di gesù lo mette al primo posto nella sua vita e vende tutto il resto che bella storia l'ha raccontata gesù grazie